Non sono stati oggetto di commercio gli avvociti al centro di un presunto traffico di cui secondo l'accusa era capo il ginecologo romano Saverino Antinori prosciolto dal GUP di Milano Alfonso Ferraro dall'accusa principale quella cioè di associazione a delinquere finalizzata alla commercializzazione di gameti e rinviato a giudizio per altri reati minori. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il giudice lo scorso 20 luglio ha anche assolto la segretaria della clinica Matris Bruna Balduzzi e altre due persone processate invece con rito abbreviato. Per il giudice dagli atti dell'indagine condotta dal PM Maura Ripamonti non è emerso alcun elemento di prova relativo all'acquisizione di gameti da emettere in un ipotetico mercato e quindi da fare oggetto di commercio. I trasferimenti di denaro da parte delle coppie che volevano avere un figlio a due cliniche estere, una spagnola e l'altra con sede nella Repubblica Ceca e di singole donatrici non costituiscono commercio in quanto gli ovociti erano destinati alla fecondazione eterologa di coppie che avevano i requisiti necessari per detta forma di procreazione medicalmente assistita. Inoltre anche un profano può immaginare, ha aggiunto il giudice, che per ottenere i gameti, per conservarli e per trasportarli occorre ricorrere a tecniche che hanno dei costi e dei superfluo rimarcare che la mancata indicazione da parte delle autorità amministrative competente di retti costi impedisce in assoluto di esprimere un giudizio sulla loro adeguatezza. Un'altra posizione era stata stralciata nei mesi scorsi, mentre per altre nove, tra cui il ginecologo Piero Mita, che avrebbero fatto parte di una seconda presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di gameti alla clinica Le Betulle di Appiano Gentile, il procedimento è stato trasmesso a Como per competenza territoriale. Antinori, già condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a sette anni e due mesi per il prelievo forzato di ovociti a un'infermiera spagnola, a sua volta imputata per calunnia, è stato invece rinviato a giudizio per reati minori e appropazione in debita di ovociti. Il prossimo 13 novembre si aprirà infatti il processo a carico del ginecologo e di un altro co-imputato relativo a un singolo episodio, quello di una coppia che non avrebbe prestato il consenso all'impianto a terzi di ovociti di loro proprietà.